Il seno attualmente è molto diffuso, molto sentito nelle scuole, tant'è che oggi a questo convegno vi parteciperanno circa 150 scuole diverse e tante sono state le richieste che ci sono ancora pervenute. Ciò significa che il problema, questa tematica, è veramente molto sentita ed è necessario fornire degli strumenti per poterla affrontare. La formazione sta alla base dei docenti ma soprattutto il coinvolgimento attivo dei genitori in modo da andare a creare un'alleanza tra genitori e scuola e soprattutto anche attori del terzo settore in modo che tutti in maniera condivisa possiamo fare un fronte comune a queste problematiche. Soltanto così si può affrontare e non in maniera spezzettata.